Dopo il successo della prima sessione formativa che si è tenuta la scorsa settimana a Pescara, alla quale hanno partecipato oltre 100 professionisti del mondo della sanità e dell'ambiente, si è svolta a Teramo la seconda tappa dell'evento organizzato da Arte a Regione Abruzzo. Al centro della sessione anche tematiche legate alla sostenibilità nutrizionale e scelte alimentari che tengono conto sia della salute umana che della conservazione del pianeta, in particolare in un contesto come quello terramano che deve essere tutelato e salvaguardato. Assolutamente sì, naturalmente noi abbiamo una eterogenità geomorfologica, noi abbiamo la montagna, abbiamo la collina e abbiamo anche il mare. Il nostro controllo passa attraverso la programmazione di quella che può essere la balneazione e non è soltanto il rilascio della bandiera blu ma è un continuo controllo su ciò che avviene sui nostri fiumi, nel nostro mare e poi attraverso anche l'acqua. Noi abbiamo un grande impegno che è quello del controllo delle acque del Gran Sasso e delle acque territoriali e delle acque diciamo sotterranee. È chiaro che ci stiamo lavorando e abbiamo inteso con la ASL creare questa sinergia perché non si può non tener conto di quanto l'aspetto sanitario possa dipendere anche da un ottimo ambiente. L'obiettivo è stato quello di diffondere buone pratiche in materia di tutela ambientale e sensibilizzare medici, infermieri e operatori sanitari sulle patologie legate agli effetti sulla salute umana, dell'inquinamento atmosferico, dei cambiamenti climatici, dei campi elettromagnetici. Sì, sono oramai i fulcri del nuovo approccio sanitario, orgogliosi appunto di ospitare l'Arta qui da noi, un ente con cui lavoriamo molto in sinergia anche e soprattutto per le acque del Gran Sasso. Si va verso, come vuole lo stesso PNRR, verso un approccio One Health della sanità, all'ambiente, il salute, animali, cioè oramai la sanità si va su una visione globale dell'assistenza sanitaria e noi siamo qui, siamo presenti e la nostra testimonianza insieme all'Arta per questo nuovo modo di gestire appunto la sanità. Grazie a tutti.